Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi su Fano TV, sul canale 17, la rassegna stampa in diretta delle 7.30. Allora cominciamo dal santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo. Il santo di oggi è Santa Paola Montal Fornes e sono anche altri santi come per esempio Sant'Alessandro, San Vittore, Sant'Andrea, ce ne sono tanti. Allora il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 17.52. Andiamo a vedere velocemente anche il tempo. Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento nei valori massimi. Sono stazionari invece le temperature o in lieve diminuzione quelle minime. Per mercoledì domani cielo sereno, sole che splende su tutta la regione. Avremo però ancora venti di brezza da nord e raffiche fino a vento fresco. Poi giovedì ancora giornata serena con bel tempo, temperature in diminuzione quelle della notte. Invece aumenteranno le temperature ancora di più giovedì e i venti saranno di brezza tesa dai quadranti occidentali. Un probabile transito di un sistema perturbato nelle giornate di venerdì e sabato, ma giornata che migliorerà poi in quella di domenica. E adesso andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. In primo piano la festa dei 100 giorni. Qui parliamo degli studenti, quelli che si raduneranno al Palasport di Pesaro. Saranno circa 3.000 per festeggiare 100 giorni dall'esame. Massicce misure di sicurezza per l'evento organizzato del 13 marzo. E poi la fotografia, centro pagina, della sabbia che ha ricoperto il prato a Baia Flaminia. Campo di Marte sommerso dopo le raffiche di vento, protestano gli ambientalisti. La prima pagina del Carlino di Pesaro, Io, Trump e l'Isippo. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha parlato della statua con il Presidente degli Stati Uniti, appunto Donald Trump. Vedremo poi che cose si sono detti. Ladri, ridateci le foto dei bambini, furto all'asilo di Gabicce, l'appello dei genitori. E poi sulla sanità, caos per prenotare le visite. Niente CUP, si va in ospedale per alcuni esami, la situazione però, dicono, è temporanea. Ieri a Fossombrone c'è stato il commosso addio a Silvia e Alberto. La coppia che è tragicamente morta nei giorni scorsi in un incidente automobilistico. Ieri pomeriggio, i funerali nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice. La coppia, lo ricorderete, è rimasta uccisa venerdì scorso in uno spaventoso incidente di macchina sulla Flaminia. Silvia aveva 38 anni ma era originaria di Fossombrone. Si era trasferita a Latina dove aveva incontrato Alberto di 68 anni, originario di Roma, ex carabiniere forestale, in pensione. Ed erano tornati, si erano trasferiti a Fossombrone per dare inizio ad una nuova vita. Mentre la pagina di Fano del Corriere è sul Carnevale, sicurezza garantita che merita però almeno 20.000 accessi. L'organizzazione chiederà una deroga per la sfilata finale, quella di domenica prossima. Esclusi dal computo, infatti, sono spazi importanti. Si chiede di rivalutare l'argo di Porta Maggiore e lo spazio reale concesso da Viale Gramsci. La pagina di Fano del resto del Carlino, robot per ispezionare i cunicoli di Porta Maggiore, messo a disposizione da Aset, che l'ho acquistato per 50.000 euro per monitorare la rete fognaria, servirà per entrare dentro questi cunicoli di Porta Maggiore e vedere un attimo dove portano, cosa c'è, soprattutto la parte architettonica di quello che c'è sotto, appunto, e che è stato scoperto dopo i lavori effettuati in questi ultimi mesi. Progetto Fano, siamo alle amministrative, non ci sarà. Ilari e Magrini nella Lega verso le elezioni. Nel centro-destra anche i consiglieri del Vecchio e Merisola in cerca di casa. L'esippo, contatto sgarbi Trump, ci ho parlato e lo richiamerò. Il critico d'arte rivela le telefonate, gli ho chiesto una moral suasion. Alla strada giudiziaria si accompagna quella della trattativa e Donald Trump non sapeva nulla in realtà dell'esippo, di questa statua. Però, insomma, Vittorio Sgarbi che dice, io conosco bene Trump già dall'epoca con Berlusconi, conosco Trump da tanti anni, da quando veniva in Italia e sono grande amico anche della moglie, per me non è un problema parlare con lui, dice Sgarbi ad Anna Marchetti sul resto del Carlino. E poi, insomma, dice che si riproporrà, gli riscriverà per cercare di riportare appunto la statua a Fano in Italia. La cronaca sul Carlino, bottiglia come pugnale. A Fano un ferito in centro, un uomo insanguinato, domenica pomeriggio. A Fano, a poche decine di metri dal luogo in cui la gente festeggiava il Carnevale, un passante alle 15.30 lo ha visto in piazza Marcolini. aveva una mano che gocciolava sangue, il passante appunto ha chiamato i carabinieri, poi un ambulante lo ha portato al pronto soccorso. Sulla nuova scuola a Centinarola di Fano, il sindaco Massimo Seri ha illustrato un patto con il privato che appunto realizzerebbe anche un parco. Siamo in campagna elettorale e dunque i vari candidati cercano di incontrare la popolazione, si fanno vedere nei quartieri e in questo caso, come vedete nella fotografia qui sotto, Massimo Seri con alcuni assessori della Giunta ha partecipato a questa assemblea a Centinarola di Fano. Ha annunciato anche il completamento delle asfaltature delle strade. Ieri Giacobbo della trasmissione televisiva di Rete 4 era sulle tracce di Vitruvio, racconterà il mistero della localizzazione della Basilica. E poi sul nuovo stadio Gabellini, il nuovo stadio di Fano, Gabellini, il presidente dell'Alma Juventus, la squadra di calcio che milita in Serie C, fa sul serio, già pronto un progetto di massima, l'idea è quella di uno spazio polivalente capace di accogliere anche eventi indoor. E poi i volontari che raccolgono in due ore 110 kg di rifiuti, raccolti da un gruppo di volontariosi che tramite Facebook si sono dati appuntamento sabato nella spiaggia a lungomare di Sassogna per dare insomma una ripulita e alla fine sono venuti fuori qualcosa come 65 kg di plastica, 11 di vetro, 33 di differenziato e 1 di lattine. Poi attenzione, se siete in auto o comunque viaggiate in auto e prendete l'autostrada, sappiate che oggi e domani la circolazione è vietata nel tratto da Fano-Sud fino a Fano, però solamente in entrata, solamente in direzione Fano, quindi per chi deve prendere l'autostrada, chi deve andare a Urbino, tutto resta regolare. Ci sono lavori di asfaltatura, i lavori speriamo finiscono alla svelta, finiscano in fretta almeno per l'inizio dell'estate perché insomma in Cina avrebbero costruito migliaia di chilometri, qua ci vogliono i secoli. Prenotazioni solo di persone, il cupo bloccato da 20 giorni, Baldelli, da voce alla protesta di mezza provincia, Marche Nord, stiamo modificando le agende, dunque un inferno tra code chilometriche giornate perse per prenotare una visita causato dal malfunzionamento del centralino, del centro unico di prenotazione. Fratelli d'Italia con Antonio Baldelli attacca, nessun malfunzionamento ma una riorganizzazione per dare risposte più appropriate ai pazienti, dicono invece da Marche Nord, quindi più di una volta si è parlato di questo problema al centralino, al centro unico di prenotazione, con l'area vasta 1 lavoriamo per garantire la proprietà prescrittiva delle diagnosi, come indica il Ministero. Su questa festa dei 100 giorni blindata 3.000 studenti sono attesi al vitrifrigo di Pesaro. Il 13 marzo l'arena accoglierà i ragazzi delle quinte classi da tutta la provincia. Questa serata, lo ricordiamo, è consentita soltanto a coloro che hanno già compiuto la maggiorità, i biglietti costano 34 euro, ingresso più consumazione, inizio dell'evento alle 20.30 con la cena, alle 22.30 verranno aperti i cancelli, poi c'è la festa che proseguirà fino a notte, previsti tra i 30 e i 36 addetti alla vigilanza e alla sicurezza. Imponenti i controlli e le misure di sicurezza, gli organizzatori dicono vogliamo che le famiglie possano essere, possano stare tranquilli. A proposito della vitrifrigo e dell'astronave, dunque così come viene chiamata, il Presidente di Aspes, Luca Pieri, dice che l'impianto si può candidare a luogo di eventi, Pieri sicuro della duttilità dell'arena, non solo dunque partite di basket e di sport, ma anche concerti e convegni. Poi ricorda che ad aprile ci sarà il concerto di Claudio Baglioni, poi aggiunge abbiamo già 8 eventi confermati e nel corso dell'anno arriveranno a superare il calendario di spettacoli dello scorso anno, nell'articolo non si fa invece menzione dell'evento che l'anno scorso c'è stato, che ha portato migliaia e migliaia di persone, quello organizzato per la prima volta a Pesaro dal rinnovamento nello Spirito Santo, un evento che l'anno scorso a fine evento era stato detto sarebbe ritornato a Pesaro quest'anno, in realtà da Roma arriva la notizia che il rinnovamento nello Spirito Santo torna a Rimini, alla Fiera di Rimini, quindi Pesaro ha perso questo evento importante. Novità invece sui balli in spiaggia, operatori in fibrillazione, previsto un incontro in comune per definire i paletti, Matteo Ricci, il Sindaco di Pesaro nei giorni scorsi ha detto sì alle feste in spiaggia, chiedendo severità però sulla sicurezza e più flessibilità sulla possibilità di intrattenimento e sul ballo, appunto sulla renile. E Ricci trova spazio anche sull'altra pagina del Corriere Adriatico perché ieri è stato sentito mentre urlava nella riunione di maggioranza prima del Consiglio Comunale e queste urla le hanno sentite in parecchi lungo i corridoi del Comune di Pesaro. Nella Mirino, secondo i racconti di chi era presente, c'erano il consigliere del Faro Davide Manenti e gli altri dissidenti dubbiosi sul via libera al terzo mandato per gli assessori Manenti nel Consiglio Comunale, poi ieri ha votato a favore. E' una protesta che ha avuto luogo anche in un'altra seduta preconsigliare, quella del centrodestra o comunque dell'opposizione, con i cartelli, vedete, no allo statuto salva assessori. L'opposizione lascia l'aula al momento del voto, dal centrodestra ai 5 Stelle, fronte compatto e dicono regole calpestate senza rispetto. Praticamente si parla di questa delibera per modificare lo statuto che consente il terzo mandato agli assessori. Mentre questa è la fotografia della sabbia che ha sommerso il manto d'erba al campo di Marte a Baia Flaminia Pesaro. Pandolfi dice tolte le barriere naturali, le forte raffiche lasciano il segno a Baia Flaminia sotto Villa Pavarotti e l'ecologo accusa il Comune. Asfaltature, siamo ancora appeso sul resto del Carlino, sono partiti i mattini i lavori di ripristino su Viale Trieste nella zona del mare, è stato riqualificato con nuove asfaltature il tratto che va dalla palla di Pomodoro in direzione Fano. I lavori continueranno anche nella giornata di oggi, come annunciato dall'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni. Da Vallefoglia siamo alla cronaca, donna denuncia l'ex per stalking, però alla fine viene condannata a 20 mesi per calunia. È un effetto boomerang per una quarantenne, anche la querela ai vertici della questura finisce per costarle cara, mentre sulla pagina di Urbino lo portano in ospedale per una polmonita e rimane al pronto soccorso per 5 giorni. Un calvario per un 79enne è entrato mercoledì in codice rosso, è stato lasciato su una barella fino praticamente ieri sera. Il figlio dice che i medici del pronto soccorso sono stati rapidi e in gamba, sono subito intervenuti e hanno fatto tutto il necessario, ma abbiamo dovuto aspettare 5 giorni per una stanza e questo è davvero troppo. Andiamo sull'altra pagina di Urbino, questa volta del resto del Carlino. Il punto nascita non è a rischio di chiusura, smentita dall'ospedale di Urbino alle voci fatte circolare per la campagna elettorale. In tutti questi anni di lavoro altrove si sono fermati al mio rifiuto perché credo nel nostro reparto di ginecologia e ostetricia, dice Condemi che rimane dunque a Urbino. Ancora sul Corriere Adriatico, da Fossombrone bollette non consegnate dalle poste, gli utenti restano senza luce né telefono perché non arriva la bolletta, quindi non le pagano e di conseguenza staccano il telefono e diminuiscono la luce. Denuncia una famiglia di una famiglia forsempronese, ma in realtà i casi segnalati sono molto più numerosi. Molti anziani si affidano solo al postino per ricevere le comunicazioni, andrebbe fatto con la posta elettronica, con la mail, ma insomma figuriamoci per gli anziani diventa tutto molto più complicato. In alcune cassette delle lettere sono stati trovati malloppi di buste destinate a diversi indirizzi. Andiamo adesso sulla valle del Cesano, del Corriere Adriatico, a Marotta, videosorveglianza che viene attivata soprattutto per esempio alla stazione, queste sono le immagini, la fotografia delle nuove telecamere installate alla stazione ferroviaria. Marotta dunque diventa sempre più videosorvegliata, l'impianto è pronto, si parte, è conclusa l'installazione del Targa System, quella che legge le targhe e vede nelle automobili chi è in regola con l'assicurazione, eccetera, eccetera, ingressi e usciti presidiati 24 ore su 24. Parla il vice sindaco di Mondolfo, dice un lavoro congiunto con il maggiore Falcucci che abbiamo fortemente voluto. Poi strategie per pergo la città d'Europa 2020, convegno con Borrelli nella sala consigliare sarà presente Feduzzi. E poi l'ultima pagina è quella del Carlino, da terre roveresche ci sono soldi per chi, soldi a fondo perduto, fino a 12 mila euro per le persone che portano la propria residenza a terre roveresche per l'acquisto e il recupero di immobili ubicati nel territorio comunale da destinare a prima casa di abitazione. Dunque terre roveresche cerca abitanti, ci sono soldi per chi decide di trasferirsi in questo comune e c'è anche l'esenzione della Tari, la tassa per 5 anni. L'arsegna finisce qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo stasera l'appuntamento con il telegiornale alle 20.30 occhio alla notizia e questo è il numero di telefono invece per le vostre segnalazioni. A voi tutti l'augurio di una buona giornata, arrivederci.